Il corner, la direzione di Seno e va in vantaggio l'Inter, Andrea Seno, anticipa a tutti nel bucchio Inter 1 Milan 0. Stacca Seno con Galli che lo pressava. Perkamp, cerca di lanciare Jonk, il pallonetto ed è il gol per l'Inter, con un'azione tutta olandese, Perkamp, Jonk, palla in fondo a sacco. Peranio, cross ed è il 2 a 1. Stroppa. Accorcia le distanze Giovanni, stroppa. Prova il sinistro per Berti. Grandissima conclusione al volo. E' un gol meraviglioso questo e può andare a raccogliere l'abbraccio dei suoi tifosi, Nicola Berti.